un pezzo dell'installazione che stava crollando, detto questo appunto, solo per dire che conosco e seguo da un po' il lavoro che fa Ampio Assisca. Comunque io sono Mauro e sono un pezzo di un museo d'arte contemporanea e qualche anno fa ci siamo messi in testa con un po' di amici e di colleghi di aprire un museo d'arte contemporanea senza averne i soldi e senza essere miuccia prada. E quindi abbiamo deciso di dire, vediamo come si fa, se è possibile in Italia aprire un museo d'arte contemporanea con queste condizioni. L'idea nasce nel 2017, quando abbiamo, parlo al plurale perché siamo in set dietro questo progetto, abbiamo riscoperto una torre nel Cure dei Sassi a Matera che era completamente ricoperta, rivestita, abbandonata, completamente mangiata dall'edera, sembrava una piccola Jumanji. scopro che questa torre in realtà era in parte anche di proprietà, tra virgolette, di mia zia, cioè lì c'aveva le chiavi, potevamo entrarci. Io non avevo idea che esistesse questo spazio. Nasce questa idea, diceva, beh, allora, anziché aprire il più bel bed and breakfast d'Europa, proviamo ad aprire un museo d'arte contemporanea, proviamo a fare qualcosa che stavamo facendo noi singolarmente, come singoli professionisti, in giro per l'Europa. Inizia la cosa, diceva, vabbè, dai, si può fare, vedi, un po' di contatti con gli artisti per fare un po' di mostre ce l'avevamo. L'idea è fare un museo senza avere una collezione permanente, quindi producendo le mostre con artisti nazionali e internazionali. C'era l'idea, c'era il progetto, siamo riusciti anche quasi subito a convincere una banca a darci i soldi, senza avere alcun tipo di garanzia, e a quel punto però sono iniziati una serie di problemi burocratici, difficili, complessi e parecchio lunghi da spiegare, e lì è nata l'idea di dire, vabbè, proviamo a raccontare questo progetto, proviamo a raccontarlo in modo un po' ironico, ed è nata l'idea di Volevo solo aprire un museo, che è una pagina Instagram e YouTube nel quale abbiamo provato a fare un po' di storytelling, senza avere un piano, e raccontare, proviamo a raccontare questo aspetto. Dovevano essere otto puntate, dentro Volevo solo aprire un museo, siamo arrivati a 62 puntate, e ancora non abbiamo ancora aperto del tutto. Il museo ora esiste, e per tanti anni è stato il museo che ancora non esiste, ora abbiamo messo due belle croci su Anc e su Non, e il museo esiste, è visitabile, sta venendo un sacco di gente, collaboriamo appunto con artisti nazionali e internazionali, però tutto da noi è nato da Volevo solo aprire un museo, che è un po' il modo con il quale abbiamo costruito una comunità, e con il quale poi, del quale appunto dicevo, Giuseppe Liuzzi è in buona parte colpevole di questa cosa, perché se andate ancora oggi a vedere il sito internet di Volevo solo aprire un museo, è un sito disegnato a mano, male, e nasce dal fatto che io avevo fatto un disegnetto su un pezzo di carta, e avevo detto a Giuseppe che, vabbè Giuseppe, dammi una mano a mettere online questa cosa, perché vorremmo raccontare quello che facciamo, faccio questo disegnetto, e non ci siamo capiti, diciamo, la comunicazione tra noi è sempre scarsa e frammentaria, e lui praticamente aveva messo online, sostanzialmente le scansioni che gli avevo mandato le aveva messe online, così pari pari, e quindi il sito internet che vedete è sostanzialmente un errore di comunicazione tra di noi, io volevo fare una cosa un po' più pulita e carina, proprio è funzionato, perché ha dato un tono comunicativo che era assolutamente quello che volevamo dare noi, informale, in diretto, semplice, per raccontare una serie infinita di problemi in maniera un po' ironica, perché se avessimo dovuto prendere sul serio i problemi che abbiamo avuto, io sicuramente non sarei qui e il museo non esisterebbe, diciamo, sarebbe stato un calo demografico di almeno 3-4 unità in Basilicata, perché non avremmo superato quegli anni di problemi e difficoltà, e quindi da quello è nata anche la necessità di incontrare altra gente, volevo sapere un museo che c'è stata la possibilità di incontrare un sacco di gente, la comunità è nata una comunità molto grossa, abbiamo lanciato poi due anni fa una raccolta fondi assurda, offrendo ricompense che non avevano alcun senso, tra cui un, diciamo, sono ancora online, però un saluto per strada, una birra artigianale, una birra alle macchinette, se uno donava 10 euro, a 15 euro offrivamo la birra artigianale, a 50 euro offrivamo una cena menù universitario, quindi pasta al tonno e viennetta, a 250 euro c'era una cena, però cucinava mia zia, quindi c'erano le paste al forno vere. Per 1000 euro si poteva passare una notte con me, nessuna persona ha donato 1000 euro, è questa cosa che più mi ha ferito di questa campagna, per 30 euro un pezzo del museo, però l'idea era quella di... Quattro cene da tua zia comunque. Erano quattro cene da mia zia, si poteva fare cena da mia zia e poi notte con me, era tutto, però in tutti i modi, ma nessuno ha avuto passare la notte con me, 100 euro c'era una partita a risico sulla torre, perché noi abbiamo questa torre medievale nei sassi, quella è stata molto richiesta, perché bastardi, la gente sapeva, il rischio si gioca almeno in quattro, e quindi arrivavano per 25 euro a testa, abbiamo sostenuto, però tutto era immaginato e pensato per creare una comunità, intanto a noi serviva... sono arrivate delle donazioni assurde, il 42% delle persone che hanno donato non avevamo idea di chi fossero, il 58% rientravano in quella regola delle 3F, family and friends first, cioè quindi amici conoscenti o amici di amici che avevano letto di noi, e ci sono delle persone invece che hanno semplicemente dato dei soldi, e quello è stato il momento, noi abbiamo lanciato questa campagna nel 2021, quattro anni dopo l'inizio del progetto, quattro anni di mutuo dopo, e il momento in cui ci sentiamo più soli, parlavamo prima, il momento in cui abbiamo affrontato gli anni di silenzio più atroci, perché noi in quegli anni continuavamo a cercare risposte da chi avrebbe dovuto rispondere, principalmente noi aspettavamo una risposta dall'amministrazione comunale per poter iniziare completo il progetto, e dopo tantissimo tempo di silenzio, quella comunità, quella piccola comunità, quella bolla che ci eravamo creati, quella nicchia, ci stava rispondendo e ci stava dicendo che non eravamo da soli, e quindi la parte economica è stata anche interessante come raccolto, però la cosa più impressionante è vedere le persone che si stringevano attorno a noi e offrivano 5 euro per essere salutati per strada, e non offrivano 1000 euro per passare la notte con me, però ho detto che questo è un problema mio, e noi tutto questo l'abbiamo fatto per provare a dire, vediamo, si riesce a fare un'impresa culturale, si riesce a fare impresa nel settore culturale, si riesce a essere sostenibile economicamente e socialmente in quello che facciamo, cioè si riesce a dire che questo non è il nostro dopolavoro, che questo qui è il nostro lavoro, che quindi noi vogliamo aprire un museo di arte contemporanea come è una follia, però un po' sta funzionando ultimamente come lavoro, cioè noi saremo pagati, pagheremo le persone, produrremo le mostre con artisti più o meno grossi, per dire che si può fare anche qui, che non devi essere miuccia prada per poter aprire un museo, e che la cultura soprattutto nel contemporaneo non è da pannaggio di ricche famiglie di Milano o Venezia o Parigi o Vienna, ma si può fare anche qui. Noi abbiamo la fortuna estrema di poterlo fare a Matera, quindi probabilmente in Basilicata l'unica città che ha un flusso turistico tutto l'anno, che ti permette di poter fare dei ragionamenti proprio sui numeri, ma come avamposto questa è l'idea per il resto della Basilicata. Noi in questi mesi siamo entrati in contatto, oltre, come dicevo, il contatto quotidiano appunto con Syscrack, ogni volta che nasce c'è un problema, diciamo anche, ho da risolvere quelle cose, la prima telefonata è a Giuseppe Giuzzi, se non mi risponde Giuzzi, chiamo all'altro Giuseppe, chiamo Giuseppe Becci, e uno dei due mi dà una soluzione. L'altro giorno noi abbiamo questa installazione che sta prodotta da Ultravioletto, che è uno studio che lavora con l'intelligenza artificiale romano, e da Dottor Pira, che è un fumettista completamente folle di un altro pianeta fuori testa, ed è un oracolo, è un oracolo che risponde alle domande dei visitatori, basta scrivere le domande e lui risponde mischiando i filosofi greci con i rapper americani, e risponde a qualunque domanda. hanno trainato questo software, e qualche giorno fa ha deciso di suicidarsi l'oracolo, cioè davanti a un visitatore, non sanno bene per quale motivo, però ha fatto proprio un... un re... i filosofi greci lo facevano. Sì, è arrivato a quel capitolo, secondo me, ma anche i rapper americani tendevano a farsi del male, ed esplodono il panico totale, chiamo quelli di Ultravioletto, naturalmente il sabato è sacro per chi vive a Roma, e non lo è per i lucani, e quindi ho chiamato Giuseppe, mi ha detto no, per me non lo so come fare così, mi ha dato il numero di Silvio, e con lui siamo... abbiamo... resuscitato l'oracolo. ...resuscitato l'oracolo, in maniera folle, però è il discorso di un po' di relazioni che ci stiamo creando in questi anni, abbiamo creato le relazioni, stiamo creando le relazioni con Lucanian Sheetposting, e con De Lucania, che era qua ieri, ma come tante altre realtà in Basilicata, per dire, noi siamo qui, ci usiamo da van posto, perché siamo nella parte più visibile, proprio fisicamente più visibile, ma produciamo nuovi contenuti culturali, andiamo oltre la retorica dell'ultima regione d'Italia, dello stare al paesello, delle cose, noi siamo in grado di imporci su un... possiamo essere in grado di dire che sappiamo il cazzo nostro, sappiamo cosa stiamo facendo, forse no, però almeno facciamo finta. Grazie, è una presentazione bellissima, il progetto è super interessante e soprattutto fa vedere, come dicevi tu, che è possibile fare un progetto, portare avanti un progetto del genere, reclamare la propria professionalità e la possibilità di fare qualcosa, fa vedere anche le tantissime difficoltà che emergono nel farlo, ma anche un altro dei leitmotiv che è uscito più volte a Siskrack quest'anno, che è quello della necessità di una comunità, di una rete di persone che ti sostiene sia nel momento di difficoltà sia nel momento poi in cui si raccoglie, si fa la festa, cioè si raccoglie una cosa. Io ti volevo magari chiedere di questo, ma ti volevo anche chiedere cosa succede adesso, adesso voi siete aperti, da qualche mese, resterete aperti, a che condizioni, avete chiarito del tutto le vostre posizioni? Tu parli in quanto ispettorato del lavoro? No, volevo insomma... No, saremo aperti, noi siamo aperti, abbiamo aperto in anteprima dal primo dicembre 2022 e in maniera semidefinitiva dall'8 aprile e abbiamo aperto con questa mostra che si chiama Ultradizione ed è una mostra prodotta interamente da noi che coinvolge quattro artisti che sono Cane Morto, che è un trio che viene dal mondo dei graffiti puro, che per noi ha fatto un lavoro folle con gli affreschi, raccontando di un incredibile ritrovamento che cambia completamente la storia della città di Matera. Studio Antani, che è un studio di produzione multimediale materano che lavora in giro per l'Italia e per l'Europa, lui ha cercato di innovare l'aspetto, diciamo questo, il simbolo ormai di questo Sud che è costretto a essere perennemente in festa che sono le luminarie ed è costretto a esserlo perché è sempre più per marketing territoriale dobbiamo essere, mostrarci sempre in festa. Poi c'è Momo che è un muralista strattista americano e come vi dicevo c'è Ultravioletto e Dottor Pira che hanno fatto questo oracolo che tende al suicidio. Questa mossa sarà aperta fino a fine settembre perché l'idea è che noi produrremo due mostre l'anno con artisti appunto nazionali e internazionali ma anche locali. Abbiamo una programmazione che era fino al giugno 2025 perché in questi anni di attesa continuiamo a mettere carne al fuoco e a un certo punto dobbiamo iniziare a cucinarla e a mangiarla e al termine di questa mostra ne parte un'altra. Noi non abbiamo una collezione permanente produrremo queste due mostre l'anno così al termine di ogni mostra acquisiamo delle opere che entra nella nostra collezione e tra 15 anni quando avremo finito di pagare il mutuo potremo dire di essere potremo guardarci indietro e dire se abbiamo fatto un casino oppure siamo riusciti a individuare un po' di temi. Per noi comunque la cosa più importante è quella di dire si possono produrre contenuti culturali interessanti di rilievo uso pure una brutta parola belli anche anche qui e lo si può fare e lo si può fare bene. La reazione del pubblico è per ora è diciamo fuori dalle nostre aspettative molto più alti in termini di numeri che in termini di proprio reazione di di felicità nel trovare un racconto un racconto diverso. perché appunto è un racconto che va oltre la retorica di la città sono i poveri i contadini qui e ora che noi siamo tutti siamo un gruppo più o meno di gente nata quasi tutti nel 92 abbiamo quasi tutti i 30 anni materiale nel 93 è entrata nella lista UNESCO ed è diciamo noi siamo cresciuti in una città che cresceva una città che guardava guardava altrove tutto quello che è successo prima fa parte della nostra storia come comunità ma non è parte di noi quindi non possiamo continuare a raccontarla solo perché al turista piace vedere la cosa noi cioè la città vive sul turismo e questo però non vuol dire che tu debba diciamo raccontare delle cose che non hanno a che fare con te se riesci a produrre nuovi contenuti il racconto che può venirne fuori è un racconto che ha un senso e poi appunto costruire una piccola comunità attorno a noi cioè noi stiamo lavorando su una nicchia però anche nella nicchia si può essere felici cioè tutto tutto è nicchia se la nicchia è abbastanza grande poi da poterci vivere bene ti ci fai un bel un bel appartamentino dentro la tua nicchia e stai felice cioè anche non so anche Facebook credo sia una nicchia una nicchia immensa gigantesca un mega grattacielo però sempre una nicchia è di qualche miliardo di persone però noi vorremmo lavorare con quello vorremmo che una piccola comunità abbiamo iniziato a fare delle presentazioni di libri di progetti artistici culturali diciamo nel teatro nella poesia presentare dei progetti per dire noi siamo qui alziamo una bandiera e proviamo a raccogliere a raccogliere persone è difficilissimo perché perché poi appunto le cose diciamo le bollette arrivano noi non vogliamo fare filantropia non ne abbiamo non abbiamo abbastanza soldi per poter essere filantropi però vorremmo farlo bene ragionare sul medio lungo termine cioè ci sono un sacco di cose che non funzionano però stiamo cercando di pensare in prospettiva per dire ok però proviamo ad andare oltre proviamo a dire che siamo vivi che abbiamo qualcosa da dire date anche uno date anche uno spazio a un sacco di cose interessanti quindi create questo questo momento se si parla di tanti ti ho sentito nominare tanti anche artisti abbiamo fornito avere uno spazio e quindi vorremmo metterlo senza fare bulimiche senza essere bulimiche quindi prendendo qualunque cosa succeda però dicendo abbiamo usiamolo lo spazio che abbiamo diciamo abbiamo fatto un investimento anche in termini di attrezzature di materiale così con un po' di attenzione facciamolo ora ci sono mesi in cui abbiamo più difficoltà mesi in cui ci stiamo accorgendo ci siamo accorti abbiamo fatto un po' troppo tipo questo agosto per noi è diciamo parecchio complesso perché noi siamo comunque aperti dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 20 io l'ario continuato diciamo c'era quella c'era il il demone della procrastinazione di Zio Calcare c'è gente che a gennaio febbraio ci ha detto ma facciamo una cosa sì sì mese agosto che problema c'è e poi ci siamo trovati diciamo che poi agosto è arrivato dove c'è una follia di eventi uno dopo l'altro a cui abbiamo detto di sì tipo oggi abbiamo una presentazione di un libro al museo noi siamo comunque sempre quelli cioè non è che abbiamo poi stiamo seguendo un festival un festival a pisticci dove ci hanno chiesto di fare tipo i buffoni in piazza però il nostro lavoro che volevo solo aprire un museo abbiamo fatto quello avevamo un podcast in cui facevamo gli stupidi però ci danno dei soldi in cambio di questo quindi faccio la scimmietta quanto volete no però qui ci divertiamo a intervistare la gente in maniera totalmente casuale e contemporaneamente il museo è aperto abbiamo però siamo disponibilissimi a incontrare le altre persone cercando però anche di dire di far capire alle persone che collaborano con noi alla realtà che collaborano con noi che quello è il nostro lavoro e che vorremmo che sia anche il lavoro di altri e che dobbiamo cercare di affrontare tutto con la massima serietà possibile perché diciamo ne vale della professionalità noi vogliamo diventare istituzionali cioè l'istituzione senza essere istituzionali cioè noi vogliamo dire noi siamo dei seri ah ci abbiamo 30 anni non ci abbiamo i capelli bianchi non ci abbiamo i conti in banca ma vogliamo essere seri interlocutori siamo dei professionisti poi siamo professionisti scarsi è un altro discorso però siamo dei professionisti non siamo dei quattro amici che vogliono fare le cose è della cosa più difficile in questi anni cioè dimostrare che non sia un gruppo di così di improvvisati di persone che si vogliono bene ma che hanno diciamo che abbiamo una prospettiva perché se uno apre una salumeria in automatico visto come un come dire un imprenditore diciamo così si apre un bed and breakfast se invece si lavora nel culturale nel comunque nel trovare nuove forme nuove vie c'è sempre un po' l'ottica del dell'arronzato delle pacche sulle spalle del quanti siete carini e no sono dei professionisti se sbagliamo sbagliamo però ce la rischiamo questo è un altro grande tema io aprirei al pubblico a quelli che ci sono di fronte se ci sono delle curiosità delle domande ci stava stiracchiando ciao innanzitutto grazie per l'introduzione la presentazione è stata molto interessante la domanda che ti volevo fare probabilmente te l'hanno fatta già altre 300 volte è che tutte le difficoltà che avete incontrato burocratiche e non burocratiche se questo museo fosse stato in un altro posto e non a Matera ci sarebbero stati ugualmente o diciamo il fatto di essere appunto a Matera di essere in Basilicata ha esasperato queste criticità allora una difficoltà è proprio specificamente Materana ed è il motivo per il quale poi non era nemmeno è capitato più volte che come volevo sapere un museo raggiungessimo un po' di visibilità nazionale su principalmente riviste perché la storia era bella da raccontare giovani sud cultura problemi quasi le tre S del giorno sesso sangue e soldi cioè è divertentissimo da raccontare e non è nemmeno poi molto divertente una vicenda diciamo legata a un problema di assegnazione di alcuni locali che noi stavamo aspettando che aspettavano i perlegge e lì avremmo dovuto fare la biglietteria il bookshop e la caffetteria 40 metri quadri piccolino però funzionale alla sostenibilità del progetto nel suo complesso ci siamo trovati in una vicenda molto più complessa e grossa di noi che ha fatto sì che per 5 anni ci fosse questo lunghissimo silenzio e che alcune nostre richieste totalmente legittime nostro malgrado con lettere ufficiali dessero un po' fastidio perché andavano a rimestare in una storia che negli uffici pensavano che fosse sepolta nel passato a parte quindi questo problema che specificamente Materano e se diciamo a Orvieto o a Ragusa non lo avresti avuto il resto dei problemi sarebbero stati assolutamente identici un po' perché nascono dal fatto che avremmo avuto la stessa età e quindi comunque il ragionamento su il non prendere sul serio una generazione solo per una questione anagrafica perché noi diciamo se c'è una cosa che abbiamo imparato a scuola è a scrivere abbastanza bene le lettere quindi scriviamo delle belle lettere quindi non è che ci presentavamo male siamo sempre presentati in maniera secondo me giusta e corretta però poi arrivavamo non con i capelli bianchi e non con i titoli davanti ai nostri nomi e quindi quello è un problema assolutamente comune ovunque in Italia ma secondo me proprio in Europa non è quello e l'altro è che in Italia c'è un grandissimo problema nel terzo settore in questo momento c'è una confusione totale la riforma un po' ha messo in ordine nel 2000 la riforma del terzo settore del 2017 un po' ha messo in ordine negli ultimi anni sono usciti gli ultimi decreti però sostanzialmente non esiste una forma giuridica una ragione sociale di un museo cioè o sono le fondazioni e quindi la fondazione Prada fondazione Guggenheim e quindi un'azienda o un privato che ha un interesse a investire perché ha dei ritorni fiscali giustamente meglio investire in un museo che in una squadra di calcio forse però c'è un ritorno oppure l'arte è sempre un po' demandata all'associazionismo al dire beh vedetevela un po' voi così questo qui ha creato un grandissimo buco normativo e quindi noi il Volevo solo aprire un museo nasce proprio dopo un incontro in Camera di Commercio quando andando lì c'era questo dibattito sulla quale fosse il codice ateco giusto per noi e io tra l'altro anche problemi fiscali di questo io ho detto vabbè ma non era questo volevo fare era solo un museo non volevamo mettere così in difficoltà l'intero ufficio per me l'ufficio più assurdo del mondo che la Camera di Commercio e lì era nata questa cosa come si fa è possibile che non esista una forza si parla sempre di valorizziamo i beni culturali ma dobbiamo fare queste nuove cose e poi nel concreto noi abbiamo provato a fare cose del genere non c'è una formula poi non credo nemmeno che ci sia la fila alle Camere di Commercio a chiedere come si apre un museo perché anche se vai su Wikiao c'è una pagina come aprire un museo però non c'è la risposta dice mettete insieme le opere fate uno statuto e no non è così facile quindi i problemi sarebbero stati comuni la fortuna secondo me di farlo a Matera è stato che abbiamo potuto raccontarlo senza avere grande pressione dalla concorrenza nel senso che nel contemporaneo a Matera comunque diciamo anche allargando anche la Basilicata non c'erano altri player come si diceva le varie se avessimo fatto questo progetto in altri paesi non saremmo arrivati alla fine perché gli altri sarebbero andati molto più avanti cioè a Bologna Napoli Lucca o Firenze non era immaginabile resistere cinque anni invece qui ci siamo resi conto che il racconto funzionava perché tanti erano anche curiosi di dire dai continuiamo perché vorrei sarebbe bello se faceste e ora che abbiamo aperto c'è questa possibilità ci sono altri che fanno il contemporaneo però in quella specifica nicchia no quindi altrove forse avremmo avuto meno problemi specifici come la cosa però noi siamo profondamente legati a quello che non lo faremmo altrove o meglio se ci paga no anzi no se ci paga non lo facciamo anche altrove alla fine è tutto è tutto lì però volevo sapere un museo serve a quello se hai un sacco di tempo libero ti puoi vedere i video tutti se mi dispiace scusami non volevo no perché sadici masochisti la gente che frequenta questi post quelli dovevano essere appunto dovevano essere otto i video ti ho detto poi ci è scappato un po' la mano perché è andato un po' così bene grazie c'è qualcun altro dal pubblico che vuole cadere curiosità su questo su quello che è stato detto se no io ne ho va dai dai anch'io ne ho no è molto interessante tutta la dinamica ne abbiamo già parlato un po' la frequentazione del vostro del vostro museo tu mi dicevi che in parte è locale in parte sono i vostri concittadini di Matera in parte sono stranieri in parte sono altre persone altri italiani noi abbiamo deciso fin dall'inizio di provare in tutti i costi ad entrare nel sistema museale nazionale che non vuol dire assolutamente nulla non dà nessun tipo di vantaggio però ci sembrava una gran figata poi dire abbiamo aperto siamo pure nel sistema museale non so a chi dovevamo dirlo se non a noi stessi e nel sistema museale nazionale richiede che tu debba tenere traccia del tipo di pubblico che frequenta il museo quindi noi sostanzialmente richiediamo i capo la provenienza dei visitatori quindi abbiamo la statistica perfetta di chi è passato e attualmente abbiamo dal primo dicembre abbiamo un pubblico il 30% è proprio capo 7500 proprio Matera ed è gente in parte di passaggio proprio chi cammina là davanti e si ferma e in parte persone che hanno sentito di questa cosa vengono un po' attirati dal fatto che c'è questa torre che è molto sconosciuta da sempre sconosciuta in città e quindi diciamo l'idea anche di scoprire un altro pezzo della città diverso così e l'altro 70% è per un 30% italiano legato a un turismo di passaggio a un bel turismo materano che è quel turismo non ancora diciamo proprio totalmente perso nei grandi numeri dei pullman che vomitano persone se li riprendono qualche ora dopo c'è ancora un turismo diciamo data la difficoltà da arrivare difficoltà diciamo data la mancanza del treno e di alcune infrastrutture diciamo che sarebbero abbastanza necessarie per noi per andare via e tornare però sul turismo ci hanno un po' preservato e il 40% finale è il turismo straniero che è il turismo più più curioso da quel punto di vista nonostante noi non siamo ancora nelle guide perché siamo arrivati dopo e le guide avevano già stampate non abbiamo accettato le offerte diciamo economiche costose dei tour operator per inserirci nei loro percorsi perché naturalmente tutte le guide che vedete in giro in città distribuite sono tutte guide come dire le inserzioni sono tutte a pagamento cioè non viene fatta una selezione né dai tour operator né da chi stampa le guide tu paghi ed entri in quelle dinamiche ma noi non l'abbiamo fatto per motivi politici semplicemente perché nessuno ci ha cagato quando siamo arrivati e se ne sono accorti dopo quando il pubblico un tour operator è venuto l'altro giorno ha fatto ma voi che cazzo siete voi è entrato proprio così arrogante no perché viene la gente a me dice che vuole venire da voi ma io non so voi che cosa siete noi saremmo un museo ah ok allora il 50% del biglietto è mio ha fatto ah beh no grazie nel senso se vuoi anche no però si parla di numeri cioè lì ti assicuri quelle 4.000 persone 5.000 persone l'anno però diciamo è un pubblico va bene anche quello il pubblico cosa più bella è che in questo momento la mostra è una mostra che faccio un po' di spoiler tanto nessuno di voi è gente che va nei musei quindi la gente non verrebbero mai e la mostra inizia con un video che racconta questa scoperta incredibile che hanno fatto che abbiamo fatto nei lavori è che cane morto questo trio di writer completamente diciamo se vedete alcuni alcuni loro video vi accorgete della follia di quanto sono ovviamente pazzi scatenati che poi che cane morto hanno deciso di vincendo un bando del comune hanno deciso di restaurare questi affreschi clamorosi che abbiamo ritrovato e hanno fatto un casino hanno sostanzialmente restaurato questi affreschi antichissimi distruggendoli in realtà è una storia e hanno ritrovato queste sculture pazzesche che cambiano completamente la storia della città naturalmente vedendo il video è abbastanza chiaro evidente che di ritrovato non ci sia un bel nulla e che il lavoro sia tutto loro però ci serviva per raccontare un po' la retorica della scoperta materana dove tutto è incredibile tutto è assurdo fantarcheologia totalmente fantarcheologia in un territorio che vive di fantaracconti il racconto nelle città turistiche è un racconto sempre legato in parte a storie vere in parte a storie verosimili in parte a storie completamente false però tutto insieme crea un po' il mito di alcune città e a materia è bellissimo camminando vedere le guide che iniziano a raccontare e dicono perché qui un tempo eravamo poverissimi se vedono che il gruppo di turisti non risponde a questa provocazione alzano sempre il tono perché qui i bambini mangiavano le mosche le mosche mangiavano i bambini esaggiano sempre di più finché non arrivano a un effetto sorpresa e su questo i cani morto però anche noi abbiamo avuto il zio di lavorarci e la cosa bellissima del pubblico è che il pubblico straniero soprattutto coglie immediatamente il tono che abbiamo voluto dare anche perché ha capito che sta entrando in un museo d'arte contemporanea e che sta facendo quel lavoro il pubblico principalmente il pubblico materano è il pubblico che più come lo siamo noi più vittima di questo lavaggio del cervello quotidiano in cui tutto da noi è scoperto tutto da noi è esagerato e tutto poi alla fine è abbastanza verosimile perché ogni giorno viviamo questa perché noi a Matera viviamo il buco troviamo un buco il buco più buco del mondo il pane il pane è per forza di più tutto è più tutto è esagerato e questa cosa è poi una grandissima riflessione per noi su quale sia la situazione in città in questo momento che noi abbiamo necessità di creare nuovi racconti sul territorio per evitare di subire un racconto che non non ha niente a che fare con noi cioè non possiamo subire i processi dovremmo provare a gestirli e a comandarli quindi per questa prima mostra il pubblico è molto vasto abbiamo fatto anche già dicevo dei numeri veramente diciamo che non mi aspettavo che stanno iniziando a dire che il progetto potrebbe appena riusciamo a definirsi e strutturarci meglio essere assolutamente sostenibile come l'abbiamo immaginato è tutto fragilissimo cioè basta un un niente dato che le mostre produciamo noi basta che una mostra sia brutta capitare che anzi capiterà sicuramente spero non già la prossima ma quella dopo ancora mostre brutte che non riescono che non funzionano che non non hanno niente da dire qua questa qui questa prima qualcosa da dire c'è e pur vero ci abbiamo messo quattro anni per produrla nell'attesa che non aprivamo noi abbiamo aggiunto pezzi rimmaginato però può darsi che faccia cagare la prossima sia brutta non funzioni o per un qualunque motivo la gente non venga crolla tutto cioè non hai non hai paracaduti è una grande scommessa fin dall'inizio e che continua speriamo no? sì che riusci come sono quelle scommesse dove puoi mettere non sono bravo nel betting metti il rischio capito? se perdi vinci comunque no infatti era una scommessa che secondo me all'inizio cioè avete pura perseveranza e supporto talento supporto Kahneman uno di questi inventori dell'economia comportamentale no? diciamo quei giochi che tu hai investito un botto all'inizio e poi aggiungi diciamo poco sunk and cost lo chiamava Kahneman sì costo affondato cioè ci ho messo ci ho messo tanto faccio un nome a caso lui dice pure spettacolo cioè appunto noi abbiamo fatto questa cosa qui cioè l'ho investito all'inizio e poi ogni passaggio successivo è stato vabbè dai ma che dobbiamo fare dobbiamo fare tutta questa cosa che non resistiamo un altro mese dai così e alla fine siamo arrivati cioè forse è stata una perseveranza anche totalmente folle forse siamo stati fortunati nella poter aver avuto la possibilità di perseverare in questo modo sicuramente altre realtà non si sono trovate nelle nostre condizioni però appunto vogliamo approfittare di queste nella sfortuna più totale nel casino più totale nel quale ci siamo trovati poter approfittare di quello che abbiamo avuto ottimo io ti ringrazio visto che ci avviciniamo più o meno l'ora in cui ci dobbiamo salutare interrompere questa chiacchierata colpa mia se c'è qualche altra domanda nel pubblico qualche curiosità la accogliamo volentieri altrimenti ne volevo fare un'ultima io però sono un po' esitante visto quello che hai detto prima sulla possibilità di fare mostre brutte perché siccome mi hai detto che avete il carnet pieno praticamente fino al 2025 ti volevo chiedere qual è l'artista qual è la performance qual è la cosa che avete in programma che aspetti diciamo con più di cui sei più fiero che aspetti con più trepidazione così da creare un po' di suspense per il futuro no perché sai la cosa imbarazzante perché il mondo dell'arte contemporanea se fai i nomi te li bruci no 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 io quanti li abbiamo bruciati noi no proprio così piromani no che fa molto ridere non so se il mondo dell'arte contemporanea è un po' una noi abbiamo deciso di non avere un approccio curatoriale perché la curatela artistica è una gigantesca masturbazione tra simili e quindi siamo un po' lontani da quel mondo sai testi infiniti per dire poi ah questo lo stile dell'artista o questo stile maestra vabbè no cioè no fa i quadri cioè sono solo dei quadri sono carini belli brutti e quindi avendo quell'approccio lì lavoriamo in maniera un po' particolare sulla curatela delle mostre e poi c'è quell'altra cosa divertente del mondo dell'arte contemporanea è che tutti diciamo esaltano poi i nomi degli artisti che lavorano quindi se trovi qualcosa imbarazzante diciamo facciamo questa mostra con quello come non lo conoscete poi alla fine non sono nomi trascendentali però ho detto questo semplicemente perché sto per fare dei nomi che non conoscerete quindi vabbè non sono scarsi sono forti allora noi faremo la prossima mostra sarà l'annunceremo tra un po' con con un artista di se non sbaglio lui è originario di Lodi che si è trasferito da un po' a Bari che si chiama Mattia Bang Geometric Bang fa lavori geometrici con tanto colore costruiremo un'altra storia legata a delle scoperte è un racconto per trasformeremo completamente lo spazio l'idea è che lo spazio ogni mostra cambia completamente la sua natura e la sua forma dopo di che alla terza mostra stiamo stiamo ancora convincendo un artista che è parecchio parecchio costoso in galleria e lui è d'accordissimo la sua gallerista no e dato che comandano cash la gallerista paga il museo no perché noi non vendiamo le opere noi non facciamo quel lavoro tra l'altro anche con gli artisti ci sono sempre dei rapporti di volta in volta diversi ci sono artisti che richiedono una fee per la partecipazione per il progetto ci sono artisti che richiedono invece che siano fatte le edizioni speciali nello shop e che quindi si vendano delle stampe loro artisti che dicono io vengo coprimi i costi di produzione e ci sono o artisti che vengono e questi finora abbiamo rifiutato tutti pagati dalle gallerie cioè la galleria finanzia la mostra l'artista si fa un nome un giro non di cose in vendita e quindi prende come dire una street tipo greenwashing artwashing non so come si possa chiamare quindi lui è dei musei quindi è una persona carina e poi in galleria si vende e si fattura questa cosa noi l'abbiamo sempre la stiamo evitando e la gallerista non è d'accordo perché per noi farebbe un lavoro complessissimo che gli porterà via parecchi mesi di lavoro durante i quali non può lavorare per lei e stiamo lavorando però la terza mostra sarà con un fotografo con uno studio di animazione clamoroso e un disegnatore con i con i colori ad olio no ad olio ad alcol i pastelli a cera fa delle cose così la quarta mostra sarà con un artista americano che fa con un artista rumeno che fa delle sculture in ceramica la quinta mostra che sarà quindi che è quella del 2025 sarà con un artista americano che fa delle sculture in cemento logisticamente comodissimo da portare nei sassi delle bestie da qualche tonnellata e e poi no queste sono tutte mostre che noi abbiamo pensato prodotto immaginato artisti tantissimi ne abbiamo perse con artisti veramente veramente forti che si hanno appassionato al progetto però a un certo punto ci hanno detto ciao cioè nel senso siete fermi noi spostiamo 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 è una certa però ciao e e quindi iniziamo a fare una mostra noi meno di quattro mesi non può durare perché dobbiamo rientrare dai costi di produzione una mostra costa però se qualcuno di voi vuole ancora passare una notte con me mille euro ancora io li accetto la notte è lunga possiamo dormire possiamo guardare la televisione quello che volete quindi rilanciando anche tanto insieme basta che sono mille euro ricordando questa offerta al nostro pubblico rilanciando l'asta pubblica per una cena con sua zia o una notte d'amore o quattro cene facciamo così o quattro cene dalla zia noi ti ringraziamo per questa presentazione per essere stato qui con noi per aver condiviso la tua esperienza il lavoro che fai che fate tutti voi tutti i plurali non sono di me stesso sono di me myself and I sono di noi noi sette che siamo dietro il museo quindi parliamo come entità quindi estendiamo a tutti l'invito a venirvi a trovare nel vostro spazio ormai attivo finalmente congratulazioni e grazie a tutti quelli che ci sono stati da ascoltare grazie grazie grazie